Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi, come ogni lunedì, siamo di nuovo in Dragon Ball What If, questa volta con una storia diversa, dato che è finita la mini storia proposta da Andrea Carol Vitolo e ora ho deciso di cominciare una piccola storia di un solo episodio che ho inventato io, un po' diciamo andando avanti con la fantasia. Vi ricordo che se volete poter propormi delle storie direttamente su Telegram in privato, troverete il link al gruppo Telegram qua sotto in descrizione, come la pagina Instagram, quella Facebook, il gruppo Discord, il Patron per acquistare le mie mod e tanta altra roba. Inoltre ragazzi volevo chiedervi di supportare al massimo questa serie, dato che non sta andando proprio benissimo. Quindi semplicemente lasciate un bel mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici, in modo che sempre più persone possano seguire questa serie e magari pure seguire il canale. Niente ragazzi, detto tutto questo, spero che il video vi piaccia, buone visioni! Ciao! Il torneo del potere è ormai finito. Jiren, in uno scatto fortuito, è infatti riuscito a liberarsi dalla presa di Goku e Freezer, lasciando cadere i due avversari e salvandosi. Successivamente, con un ultimo colpo dato utilizzando tutta la sua potenza, è riuscito ad eliminare C-17, vincendo di conseguenza il torneo. Il gran sacerdote si avvicina a Jiren, ormai esausto, e gli chiede di esprimere il suo desiderio. Il grigio, tra sé e sé, pensa a desiderio di esprimere e, dopo pochi istanti, decide quale esprimere. Prima di pronunciarlo, però, Toppo, capendo il desiderio di Jiren, gli chiede di fermarsi e che insieme riusciranno a trovare l'assassino che uccise i suoi cari. Il grigio, quindi, si ricrede e decide di fidarsi di Toppo, chiedendo quindi di ripristinare tutti gli universi. Dopo i convenevoli, Jiren si ricorda delle sfere del drago, delle quali i combattenti del settimo universo discutevano durante il torneo, e chiede al suo angelo di essere teletrasportato sul pianeta Terra. Margarita accetta senza pensarci. Appena Jiren si ritrova sulla Terra, aumenta la sua aura per farsi trovare da Goku e gli altri. In men che non si dica, il grigio viene raggiunto da tutti i nove combattenti del settimo universo, rimasti sulla Terra. I nove erano allarmati, ma Jiren riuscì a calmare tutti, chiedendo il loro aiuto e scusandosi per quanto è successo. Goku, con il suo solito tono amichevole, accetta le scuse di Jiren, gli offre un senso e gli chiede cosa gli serve. L'alieno spiega che vorrebbe trovare l'assassino dei suoi cari e sconfiggilo per sempre con l'aiuto di Goku e gli altri. Il gruppo accetta e dopo poco recupera le sfere del drago. Una volta evocato Sharon, Jiren, chiede di trovare l'assassino dei suoi cari. Sharon, prima di tutto, spiega che l'assassino è in realtà Vermouth, il dio della distruzione dell'undicesimo universo. Jiren rimane incredulo e sconvolto, ma Sharon continua a parlare. Infatti, il drago spiega a Jiren che Vermouth voleva trovare un'arma manipolabile e completamente controllabile proprio a causa del suo enorme senso di odio verso quello che ha ucciso i suoi genitori, per avere appunto una pedina utilizzabile per proteggere il proprio universo e la propria carica come dio della distruzione. Infatti, Vermouth aveva ben pensato che, se avesse uccise i genitori di Jiren, successivamente il suo maestro e i suoi amici, quest'ultimo avrebbe cercato di raggiungere una potenza immensa proprio per sconfiggere questo assassino, per poi ritrovarsi come pedina del dio della distruzione. Lo sguardo di Jiren si carica di rabbia. Successivamente, l'alieno si gira verso Goku e gli altri e chiede solamente al Saiyan però di assisterlo nello scontro contro il dio, chiedendo invece agli altri di restare sulla terra, dato che lo scontro sarebbe stato molto complicato. Successivamente, quindi, Jiren chiede a Sharon di portare sulla terra i suoi amici più cari, ovvero Dispo e Toppo. Quindi Sharon teletrasporta i compagni di Jiren da lui. Successivamente, Jiren spiega la situazione ai suoi due compagni. Dopo, Jiren chiede a Sharon di teletrasportare Goku, Dispo, Toppo e lui sul pianeta di Vermouth proprio per affrontarlo nello scontro finale. Quindi il drago accetta il desiderio e teletrasporta i quattro combattenti sul pianeta del dio. Jiren, di fronte a Vermouth, sembra caricarsi di nervosismo. Dopo lo guarda con disprezzo. Il dio, girandosi, capisce che Jiren ha scoperto tutto e sghignazzando mostra la sovera natura di dio manipolatore. Jiren, quindi, accecato dalla furia, si scaglia contro il dio, che controbatte la sua massima potenza. Due ore immense si scatenano, mentre che Toppo, Dispo e Goku guardano lo scontro increduli. Jiren colpisce Vermouth con dei pugni poterosi. Successivamente lancia delle ondate da aura molto potenti, che però vengono respinte dal dio che, tagliando l'energia scaturita, colpisce con un pugno allo stomaco Jiren. Il dio poi sfera dei calci su ogni parte del corpo di Jiren, il quale, messo in difficoltà, fa splotere la sua energia, bruciando l'energia di Vermouth e respingendolo. Dopo Jiren, colpisce al volo l'avversario, che però para tutti i colpi. Con un ghignore accapricciante, crea una sfera di energia gigantesca, che colpisce in pieno Jiren, lasciandola a terra, esausto. Goku, Toppo e Dispo rimangono increduli e dopo un momento di riflessione, decidono tutti e tre, concordando, di scagliarsi contro il dio alla loro massima potenza. I tre, quindi, per difendere l'amico, si scagliano contro Vermouth. Il trio coordina ogni colpo, riuscendo a danneggiare Vermouth, il quale però si concentra principalmente sul colpire Goku, che però, usando il potere dell'ultraestinto, riesce a schivare i colpi del dio. Nel frattempo che Toppo e Dispo colpiscono l'avversario. La situazione vede in vantaggio il trio, che, però, una volta distratto si viene colpito da una sfera di energia di Vermouth. I cinque combattenti sono sparsi per il campo di battaglia. Goku, Toppo e Dispo sono momentaneamente tramortiti dall'energia di Vermouth, che li ha colpiti in pieno. Il dio, da un altro lato invece, è veramente esausto a causa del potere che ha dovuto liberare. Il primo però a rialzarsi è Jiren, il quale forse era proprio quello messo peggio, ma nonostante ciò decide di rialzarsi per finire finalmente lo scontro. Il grigio fa bruciare di nuovo la sua energia. Così fa Vermouth, che, dopo essersi rialzato, decide di terminare anche lui lo scontro. I due si guardano fisso negli occhi per un'ultima volta, prima di scagliarsi uno contro l'altro, con i loro colpi migliori per terminare questo scontro. Jiren, urlando a squarciagola, colpisce Vermouth allo stomaco. Poi continua il suo attacco con una serie di colpi potentissimi. Calci, pugni, colpi dell'aura, tutti colpi che Vermouth non riesce ad evitare. E poi termina l'attacco con un pugno caricato. Vermouth viene colpito in pieno e viene scagliato via colpendo qualche montagna e qualche albero. Il dio si ritrova a terra, ma decide di rialzarsi utilizzando l'unica energia rimasta. Ormai in fin di vita, quindi, mette tutte le sue forze residue per un ultimo attacco, creando una sfera della distruzione enorme. Jiren fa lo stesso, creando una sfera gigante e fiammeggiante. I due, mai ridicendosi a vicenda, scagliano i loro due colpi. In questo conflitto i due mettono loro stessi. Lo scontro rimane alla pari e i due non sanno che cosa fare se non incrementare ancora una volta la loro potenza. Lo scontro però rimane sempre pari, non riesce nessuno dei due a prevalere. Successivamente però, dietro a Jiren si posizionano Toppo, Dispo e Goku, che infondono la loro energia nel colpo del grigio, permettendo di sovrastare Vermouth e infine di colpirlo e disintegrarlo. Non è rimasta alcuna traccia di Vermouth. Si sente poi un'aura provenire, ovvero quella di Margarida, che ha sentito lo scontro. L'angelo però non sembra essere molto interessato alla morte di Vermouth, ma piuttosto pensa a cercare un nuovo dio della distruzione. Ovviamente l'angelo sceglie Toppo, il quale già era un candidato proprio a diventare un dio della distruzione. Il combattente si ripromette di proteggere la giustizia e la pace anche da dio della distruzione ed inoltre affida finalmente il ruolo di leader dei Pride Troopers a Jiren. L'alieno al contempo si è finalmente vendicato e ha ottenuto ciò che desiderava da tutta la sua vita. Proprio grazie a questo scontro ha capito l'importanza dell'unione e dell'amicizia. Poco dopo il grigio ringrazia di cuore Goku, Toppo e Dispo e propone al Saiyan uno scontro per stabilire che è più forte tra i due. Goku quindi accetta la sfida. I due si ripromettono di incontrarsi tra un po' di tempo quando i due diventeranno ancora più forti e potranno combattere finalmente nel loro ultimo scontro. Dopo che Goku saluta i combattenti dell'undicesimo universo viene teletrasportato direttamente da Margarita sul pianeta Terra del settimo universo. Ebbene sì ragazzi questo video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia, se avete notato un miglioramento della narrazione e di notte proponetemi delle storie in privato su Telegram. Spero di cuore che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non è fatto, chiedete la campanella per avere tutte le notifiche che guarda i video, entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Vi ricordo che ce ne sono di nuovi quindi se non siete ancora in quello nuovo entrate sia su Telegram sia su Discord dato che regalerò appunto alcune mod ai più attivi. Inoltre mettete mi piace alla pagina Facebook e seguitemi su Instagram, trovate tutto in descrizione, pubblico a volte dei ragionamenti, riguarda il canale, nelle storie oppure nei post. Inoltre vi ricordo che venerdì uscirà una nuova versione del Super Multiverse Pack con i personaggi che avreste dovuto vedere nell'ormai cancellata serie di Dragon Ball Super Multiverse 2 con appunto un personaggio molto importante di Dragon Ball Prime che vedrete successivamente ed inoltre tante nuove cose tra cui 5 nuovi stage, forse ne aggiungerà pure di più, nuovi accessori per il CAC, nuove le skill ed inoltre le skill di trasformazione per il CAC tra cui l'Ultra Istinto, l'Ultra Istinto completo Super Saiyan Blue Evolution, Super Saiyan God, Super Saiyan Rosé e Super Saiyan leggendario dall'1 al 3. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live, un saluto da Ferraz, bella! Ciao!